Riduzione della burocrazia, incentive ai giovani che decidono di uscire di casa, superamento del ring ed estensione delle zone a traffico limitato. Sono alcuni dei progetti contenuti nelle linee programmatiche dell'amministrazione Pedrotti, presentati nel secondo consiglio comunale. Stasera oltre al tema dei temi e quello del lavoro la discussione convergerà sull'ospedale perché le notizie di questi ultimi giorni non sono completamente supportate proprio da fatti veri, non abbiamo ancora il testo della delibera della giunta regionale. Se l'indicazione è quella che siamo ritornati al punto zero e che quindi l'unico modo per almeno parzialmente finanziare l'ospedale sia usare l'area dell'ospedale attuale per destinarla a usi residenziali e di fatto costruire una Pordenone 2 nel centro della città, noi non ci stiamo, non ci sembra che le indicazioni che sono venute dai nostri elettori, ma non solo dai nostri elettori, da tutta la città, siano in linea con una proposta del genere e che quindi noi proprio come nuova amministrazione si possa accettarla.